Continuiamo la nostra carrellata sulle persone che hanno fatto l'Atletica Saronno, ricordiamo sempre 60 anni di atletica cominciati nel lontano 1954, ormai vicino il giorno dei festeggiamenti che sarà il prossimo 19 ottobre e oggi questa cosa la facciamo con Marco Segatel. Marco Segatel è un atleta che ha avuto una carriera lunghissima, anzi diciamo che ancora salta, ci prova per lo meno perché ha cominciato qui quando era piccolo piccolo e poi ha continuato. Presentati Marco. Io sono Marco Segatel, ho 52 anni e ho cominciato la mia attività atletico-sportiva qui all'Atletica Saronno penso nel lontano 72-73 e a Saronno sono legati i ricordi più significativi della mia carriera sportiva. ricordo ancora la prima gara fatta e l'ho fatta proprio qua a Saronno quando c'era ancora la pista in Terra Rossa e sono dei ricordi meravigliosi. Quindi stiamo parlando del 1972. 72, sì. 72-73. L'anno prima della pista in Tarta, nel 1975. Esatto. E da lì è cominciata la mia carriera di saltatore in alto. Tu hai cominciato subito col salto in alto? Certo. Presumo, penso che sia l'unica cosa che ogni tanto riesco a fare discretamente perché nelle altre specialità non mi hanno mai attratto più di tanto anche se ho provato, anche se ho fatto un po' di salto in lungo, un po' di ostacoli ho fatto anche il triathlon, ho fatto anche Reco Italiano ragazzi di triathlon però salto in alto per me, insomma, è il salto in alto e questa passione, questo amore continua fino ad oggi. Quindi, cominci negli anni 70, diciamo quando superi per la prima volta i due metri? Ma i due metri a 16 anni, mi ricordo, ho fatto 2,5 a Brescia sì, a Brescia e mi ricordo ancora che è stata un'emozione fortissima perché sono passato dall'1,96 che avevo saltato l'anno prima ai 2,5 metri e da lì è cominciato un po'... 16 anni e riallievo sì, allora si era allievo 16 anni e riallievo, bene, andiamo avanti diventi junior, superi anche i 2,10? sì, 2,10, la mia migliore prestazione è stata nella mia carriera, diciamo, da giovane, tra virgolette, è stata 2,13 metri diciamo che forse, tra virgolette, anche se non c'è mai la controprova si sarebbe potuto saltare un po' di più, però tra il lavoro, la mia testa che non era proprio perfetta per tirare fuori il meglio, è andata così ma sono più che felice quindi 2,13 esatto, sì dopodiché smetti o ti fermi o ti rallenti un pochino? ma diciamo che dopo ho anche cambiato, sono stato militare, ho cambiato anche società ho gareggiato due anni per la Propatria, dove però ero chiuso da dei fenomeni assoluti del tempo dei saltatori tipo, non so, Tamberi e Di Giorgio, insomma, che erano un po' inarrivabili quindi io non riuscivo quasi mai a gareggiare nei campionati vari e poi ho fatto qualche anno all'Atleti Carovellasca e dopo sono tornato per un po' di anni qua a Saronno e lì hai scoperto un altro pezzo di mondo sì, un altro pezzo di mondo perché dai 35-36 anni in poi è cominciata la mia attività come atleta master aspetta, fermati, spiega cosa sono gli atleti master diciamo che dai 35 anni in poi si può e si deve gareggiare come atleti inquadrati come master dove ci sono delle categorie di 5 anni in 5 anni, tipo 35-40 anni, 40-45 e così via dove l'attività è come quella assoluta, cambia un po' i risultati e l'età e ci sono delle opportunità per fare delle bellissime esperienze come i vari campionati italiani i campionati europei, i campionati mondiali in Italia diciamo l'attività master è molto presente ma non è penso supportata in maniera diciamo dalla federazione, invece all'estero gli atleti master sono molto molto considerati e da master Segatella ha conquistato il mondo mi sono tolto delle belle soddisfazioni ieri mi sono messo a ricordare, comunque sono 9 titoli mondiali tra indoor e all'aperto e 7 titoli europei praticamente in tutte le competizioni internazionali a cui ho partecipato ho vinto il titolo diciamo ed è stata una... e sono tuttora dei ricordi, delle soddisfazioni veramente... ai master si consegna una maglia immagino di campionato? no, ai master si consegna la medaglia una medaglia, non c'è una maglia di campionato? no, no, generalmente no magari qualche mazzo di fiori è la cosa più, senz'altro la cosa più emozionante al di là della gara, di tutto è la premiazione, insomma collino nazionale che mi fa sempre... mi fa sempre commuovere ecco tanto tanto diciamo adesso, 52 anni gareggio ancora gareggio ancora, anche se... sì, gareggio ancora questo inverno ho vinto il titolo mondiale indoor a Budapest con quanto? con un 90 poi questa estate invece il mio fisico mi ha detto stop perché sono purtroppo afflitto da una pubagia che fatica a passare comunque io tengo duro e spero questo inverno di riprendere di riprendere a saltare perché ci sono i campionati europei indoor in Polonia e ci terrai molto a farli ecco abbiamo descritto una bella storia di atletica sì, meravigliosa per quanto mi riguarda assolutamente bello perché arrivare a 50 anni e continuare a fare atletica? con questo tipo di... no, è la passione scaviamo dentro... è la passione... no, no, facciamo una precisazione perché Segatella, mi risulta si allena in un posto molto particolare ha ritagliato un pezzo di un capannone sì, sul luogo di lavoro sul luogo di lavoro lui quando non è in ufficio salta esatto, diciamo il mio dopo lavoro è ritagliarmi quell'oretta di allenamento dove riesco a fare un po' di potenziamento e quando è possibile anche qualche salto con due o tre appoggi però ho creato una mini pedana in cortile quindi, allora, ci sono 40 anni di attività c'è una regolarità di atletica uno dice, ma perché? per la passione, per l'amore che ho per questa cosa perché insomma, ognuno di noi ha delle diciamo, tra virgolette, degli hobby o delle passioni chi piace suonare, chi piace dipingere a me piace saltare mi rendo conto che nel saltare ci sono anche dei problemi fisici perché insomma, il fisico scricchiola ogni tanto però è una cosa che io ho dentro e mi appaga mi appaga completamente anche il fatto di allenarsi, di potersi muovere mi fa stare bene e anche quando sono magari un po' nervoso dopo un allenamento, anche se breve mi sento decisamente meglio non ho mai vissuto lo sport, il salto, l'allenamento come un qualcosa, come un sacrificio, come un qualcosa che bisogna fare per me è sempre stato un piacere, perché nel momento in cui dovesse diventare pesante io lascerei stare invece questo momento non è ancora arrivato, spero che non arrivi no, 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 è bella sta cosa qui siamo supportati anche dalla moglie perché bisogna dirlo Luisa mia moglie essendo anche lei atleta e quindi mi sopporto e mi capisce ecco, anche nei momenti un po' di nervosismo essendo lei stata ed essendo ancora una saltatrice in lungo mi è sempre molto vicina condivide con me sia le gioie sia i problemi è importante anche quello perché avere un partner che capisce è importante in tutti questi anni adesso tu che reggi per? per l'Atletica, l'Olimpia Amatori Rimini Allora sicuramente adesso mi sembra che sei un solo ma in questi anni sicuramente hai avuto allenatori di diversi allenatori sono passati qualche pensiero chi ti ha insegnato la prima volta a saltare? questo è già una bella domanda è una bella domanda ma diciamo che all'inizio non mi ha insegnato nessuno difatti saltavo proprio male ecco, dopo ho cominciato a vedere magari alla televisione i primi saltatori, i primi saltatori in alto i primi saltatori a ventrale ho cominciato col ventrale, col fosfori sono un po' autodidatta diciamo che dopo ho cominciato a frequentare il campo di Saronno mi ricordo con immenso piacere Luigi Vacca e Banfi che mi hanno seguito nei primi passi dell'attività ecco e dopo a livello di allenatori io sono un po' autodidatta nel senso che non finite queste esperienze ho sempre fatto un po' di testa mia e diciamo facendo anche degli errori chiaramente però diciamo che nel bene o nel male cose fatte bene e cose fatte male me la sono sempre presa con me stesso ho fatto miei complimenti da solo diciamo mi sono sempre molto molto non è che non ho mai ho sempre seguito anche consigli di vari allenatori così però fondamentalmente nessuno mi ha mai mi ha mai seguito proprio tutto l'anno ecco ti sfrutto visto che hai parlato di due persone che non ci sono più che sono Luigi Vacca ed Enrico Banfi per un ricordo loro sì due persone meravigliose diciamo il ricordo che ho di Enrico Banfi è proprio diciamo come è mancato molti anni fa è un ricordo un po' più breve però mi ricordo la sua enorme passione e il fatto che mi ha proprio indirizzato nella passione e nell'amore per il salto in alto e per l'atletica in generale e poi per Luigi Vacca che per me è stato veramente una persona è difficile trovare anche le parole diciamo una persona di cuore una persona buona che ha sempre dato tutto e di più per i suoi ragazzi per gli atleti e per l'atletica è stato veramente una persona molto importante ed è una grande perdita la perdita di Luigi mi ha molto toccato e mi ha molto colpito bene quest'anno l'atletica saranno fa 60 anni io ho intervistato sto intervistando i primi atleti abbiamo trovato gente che nel 55-56 preparava i 400 ostacoli in mezzo all'erba perché non c'era il campo non c'era la pista per intera tu hai cominciato con la Terra Rossa oggi Terra Rossa Rookboard Terra Rossa ci sono diversi manti sì esatto adesso sì quindi si è evoluta tantissimo la situazione rispetto in questi 60 anni allora penso fosse quasi una scommessa fare atletica quando hai iniziato tu era comunque ancora una cosa abbastanza particolare mettiamola così poi ci sono state le evoluzioni tecniche di tutto in questi 40 anni tuoi di atletica perché alla fine sono 40 anni che ti fai che giri a questo punto parecchio un pensiero particolare rivolto a una struttura molto bella che hai visto una situazione che ti è rimasta addosso anche perché secondo me avendo girato molto c'è una cultura diversa fuori dall'Italia di queste cose diciamo che a livello di impiantistica abbiamo penso molto molto da molto da imparare e ci sono diciamo la cosa che mi ha più colpito è la possibilità che c'è di fare impianti senza andare a spendere capitali perché in Italia sembra quasi che per fare un impianto bisogna spendere cifre enormi invece ho visto diversi palazzetti in Svezia in Finlandia fatti non dico a risparmio però in modo molto razionale senza andare a spendere cifre cifre fuori dal mondo e poi ci sono dei palazzetti veramente meravigliosi tipo il palazzetto dello sport di Linz o quello di Sindelfingen in Germania e diciamo che il posto che mi ha più colpito per l'atletica e per il fare atletica è stato a Potsdam in Germania dove ho fatto i miei primi campionati europei da Master 40 dove abbiamo gareggiato nel vecchio centro della DDR e quello che c'era era veramente paradiso per l'atleta nel senso che c'erano tre o quattro piste d'atletica di cui una di 400 metri indo pedane per i lanci per i salti da tutte le parti veramente un un paradiso per per un atleta cosa che da noi è un po' un po' introvabile ecco insomma sono cose che che lasciano lasciano un po' il segno ecco oppure anche la pista con dieci corsie trovata trovata a Porto Rico cose che per noi sono proprio sono proprio un po' un po' fuori dal mondo però insomma contentiamoci di quello di quello che abbiamo perché rispetto alle prime piste in terra battuta mi ricordo quando si andava a Varese o a Busto a Gareggiare dove c'era Rookboard durissimo e durissimo e faceva anche malissimo perché se ti capitava di cadere sul Rookboard era veramente era molto molto doloroso e insomma poi la situazione degli impianti qua da noi è quella che è perché già il fatto magari di rifare una pista diventa una pista vecchia diventa un problema perché dicono che non ci sono i soldi quindi io spero che in futuro si possa tornare un po' a costruire impianti e ad usarli soprattutto bene vado a chiudere con un ragionamento semplice ma secondo me c'è dentro tanto io ho un'idea che l'ottimo è contrario del bene nel senso che non sempre ricercare la perfezione ti porta dei risultati ma forse per il saltinato questo non è vero il saltinato è pochi secondi di sforzo molto pochi secondi di sforzo in cui tu devi essere praticamente perfetto nell'ambito di questo tempo ed è una specialità particolare cioè noi abituati alle corse ci vuole il tempo due secondi tre secondi tra rincorsa stacco e andare di là e deve esserci tutto al suo posto degli automatismi insomma ci vogliono degli automatismi e una una ripetitività durante l'allenamento che ti porta durante la competizione ad eseguire il tuo gesto atletico senza senza pensieri particolari nel senso che ti deve venire tutto automatico perché dal momento che tu cominci a pensare devo fare così devo fare cosa devo stare alto e si parte già male diciamo che secondo me quando si salta bisogna essere tra virgolette un po' nel senso buono un po' ignorante nel senso che non bisogna avere pensieri non bisogna avere paturni bisogna bisogna pensare solo a a buttarsi ecco ma ma senza troppi pensieri non bisogna pensare ho avuto male non mi sono allenato bene mi sono allenato male bisogna un po' un po' lanciarsi ecco e in tre secondi si risolve tutto eh sì si risolve tutto nel bene o nel male beh certo meno male che nel salto in alto almeno ci sono tre prove in cui si può quindi tre secondi più tre secondi più tre secondi in nove secondi possiamo fare una misura possiamo provarci sì certamente grazie Marco prego e auguri all'Atletica Saron grazie a tutti